Ciao a tutti e benvenuti alla preparazione del Crest 2009, no sin su. Mentre gli altri animatori sono impegnati nei vari settori, ascoltiamo il pensiero di due educatori alle prime armi. Come vi chiamate? Jennifer. Dario. Perché educatori? Perché mi piace stare con i bambini e penso che sia una cosa bellissima. Lo faccio qualcosa di diverso. Perché vieni all'oratorio? Per divertirmi con gli arti e impararli a conoscere meglio. Il faluratore. Cosa ne pensi sul guadagno? Che sia una bella esperienza e che impara a farci crescere non solo a noi ma anche agli altri persone. Giusto. Un saluto da tutti. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao.